Torna domenica 5 giugno la decima giornata regionale del Diabeto, una location più che suggestiva all'interno del Teatro Petrarca. Noi lo facciamo a Teatro Petrarca, che credo che sia una location bellissima, secondo noi. Poi avverrà anche un'altra cosa importante, avverrà che alla fine della convention andremo nel terrazzo del Teatro Petrarca e qui ci sarà un buffet offerto a tutti gli intervenuti. Oltretutto c'è da dire una cosa, che la Federazione Toscana ha lavorato molto bene fino ad oggi, perché se consideriamo che la Toscana è considerata un modello da imitare a livello nazionale per quanto riguarda il diabete, io credo che molto abbiano contribuito gli uomini che fanno parte o le associazioni che fanno parte del mondo del diabete. Tanti interventi importanti per quanto riguarda la parte medico-scientifica e tanti anche per quello che riguardano quella che potremmo dire ludica, musicale. Sì, nella parte scientifica ci saranno importanti relatori, oltretutto però noi cercheremo di andare un pochino più sul concreto, cioè vogliamo capire, visto che questa sanità sta cambiando, dove andiamo a parare, insomma il discorso è questo. Ci sarà tra l'altro un intervento importantissimo della senatrice Donella Mattesini, che fa parte della Commissione Sanità del Senato, perché da lei forse potremo capire meglio come ci si può muovere nel futuro in campo nazionale. Per la parte ludica c'è un momento importante, ci sono amici, diciamo così, che sono venuti volontariamente, sono amici anche importanti, tipo Ella Armstrong, tipo anche l'orchestra dei mandolini con una grande soprano. E poi c'è nella prima parte sicuramente un momento di divertimento con Uberto Kovacevic, che naturalmente prende in giro tutti i toscani perché dirà delle frasi nei vari dialetti toscani. Grazie! Grazie.